Buonasera a tutti, buonasera al pubblico di Pesaro e buonasera e vi ringrazio per essere venuti qui a partecipare a questa serata, questa serata che vuole essere un'occasione di incontro innanzitutto dopo tanto tempo e anche un'occasione di confronto con il sindaco per parlare un po' di Pesaro, di quello che è stato, di quello che è e di quello che sarà anche alla luce dei 15 durissimi mesi che abbiamo trascorso e che speriamo di esserci lasciati alle spalle. Adesso intanto chiamo con me sul palco i protagonisti di questa serata, invito ad entrare il protagonista assoluto che è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e fategli un bel applauso, grazie sindaco, e poi le giornaliste che insieme a me porteranno avanti questa conversazione. Elisabetta Rossi del resto del Carlino, Buonasera Elisabetta, dopo parleremo anche di mascherine, e da Alessandra Massi del Lanza. Buonasera. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco che, chiamandoci a condurre con lui questa intervista, ha già sorpassato le polemiche sulle quote rosa, perché facciamo le polemiche sulle quote azzurre, visto che siamo tutte e tre donne a tempestagli di domande. Per quanto riguarda la serata il titolo è abbastanza simbolico, perché sono sette anni da sindaco. Sette anni è sempre un numero abbastanza importante, perché è il settimo giorno della fatica dopo il lavoro, ma è il settimo giorno anche degli anni, sette anni di guai, poi ci sono capito le sette meraviglie, anche i sette nani volendo, però in realtà questo qui vuole essere sette anni del suo mandato, primo e secondo mandato, ed è un numero secondo me particolarmente simbolico, perché subito dopo l'elezione del 2019, quindi del secondo mandato, ci sono stati, nove mesi dopo, una pandemia che ha creato una sorta di tempo sospeso, di tempo sospeso in cui noi siamo stati sospesi, l'Italia è stata sospesa e anche Pesaro è rimasta sospesa o forse no. C'è abbiamo a questo proposito un video che io proporrei di lanciare, che sarà una sorta di piccolo bignamino delle opere che sono state fatte, di quelle che sono in questo momento intraprese e di quelle che verranno e da cui si potrà iniziare a partire per questa conversazione. Grazie a tutti! 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 suoi risultati e fatemi dire che non è finita che bisogna vaccinarsi tutti perché il vaccino è l'unico strumento per sconfiggere il covid e il covid ancora non è sconfitto, adesso intanto gli abbiamo dato una bella botta perché con l'avvio della vaccinazione e anche l'arrivo della bella stagione è crollata la mortalità perché abbiamo cominciato a difendere i più fragili, gli anziani, coloro che hanno altre malattie eccetera, ma noi vinceremo la partita o meglio il primo tempo della partita quando avremo raggiunto il 70% di vaccinati, cioè l'immunità di gregge, quindi bisogna correre, non dobbiamo frenare, dobbiamo correre sulla vaccinazione e ovviamente dobbiamo avere, c'è l'incognita delle varianti anche se io credo non sono uno scienziato però per quello che leggo, per quello che razionalmente, ragionevolmente si può pensare, una volta definita la base del vaccino se ci dovessero essere delle varianti al massimo il prossimo anno ci sarà un miglioramento del vaccino stesso come avviene per l'influenza e quindi il vaccino è l'unica cosa che noi possiamo fare. Allora adesso, Salvini ha bisogno ogni giorno di una bandierina, se dobbiamo tenere per qualche settimana in più la mascherina muore qualcuno? Fino a che non è finito il Covid è normale che ci sia lo stato d'emergenza, quando sarà finito il Covid non c'è più lo stato d'emergenza, mi sembra davvero una polemica sterile come spesso capita e nessuno di noi a iniziare dal Presidente Draghi vuole avere lo stato d'emergenza vita natural durante, ma insomma fino a che il Covid non è sconfitto è giusto che il Governo abbia degli strumenti emergenziali per intervenire a partire dalla campagna di vaccinazione che ancora non è terminata. Credo però che quest'estate, domani avremo il Comitato di Sicurezza con il Prefetto, avremo dei problemi un po' diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto qualche mese fa, avremo dei problemi un po' diversi perché questa euforia crescente a mio parere ci obbligherà a prendere degli accorgimenti, vedo già i primi atti vandalici, in spiaggia piuttosto che nella zona mare, stato di ubriachezza, secondo me l'euforia potrebbe produrre anche una voglia eccessiva di divertirci che può creare altri problemi. Così come rinizieranno alcune questioni legate alla sicurezza che il Covid aveva indebolito, quest'anno è stato un crollo totale di furti, ma sappiamo come i furti negli appartamenti in particolar modo in una realtà come la nostra rimangono uno dei problemi principali che abbiamo periodicamente. Abbiamo il problema dello spaccio perché la droga non è che è sparita e non è che ha smesso di consumarla, anzi secondo me in questo anno se ne è consumata addirittura di più e domani chiederò al Prefetto di organizzare per tutta l'estate un presidio fisso tra tutte le forze dell'ordine e la pulizia municipale in un quadrilatero che fondamentalmente è molto piccolo, è l'aria intorno al parco Miralfiore, la stazione, il monumento della resistenza, la parte qua del monumento di Garibaldi che va piantonata costantemente tutti i giorni, non periodicamente perché fanno sicuramente delle azioni ma va data, va garantita tranquillità e sicurezza percepita ai cittadini e ovviamente poi la nostra strategia è quella di far vivere i luoghi perché i luoghi più sono belli sono vissuti più i balordi se ne vanno e questo vale a partire dal parco Miralfiore che è stupendo, qualche giorno fa abbiamo inaugurato l'aria giochi nuova grazie alla donazione della Renco, della fondazione della Renco, bellissima, un'aria giochi sostenibile, accessibile anche per i bambini portatori di handicap e domani credo che con Enzo andremo a fotografare la ristrutturazione della fontana del parco perché stiamo continuando a rendere quel luogo sempre più bello e sempre più attrattivo. La prossima tappa riguarderà invece il carcere Miralfiore e Piazzale 1 maggio, con la provincia abbiamo ragionato a lungo in questi mesi che cosa fare e cosa non fare perché il carcere Miralfiore è metà del comune e metà della provincia e abbiamo deciso qualche settimana fa di realizzare lì una nuova scuola superiore, una scuola della creatività che possa dare spazio al coreutico che è un indirizzo che ha il liceo scientifico e che possa in qualche modo insieme al liceo artistico Mengaroni creare in quella zona un polo della creatività. È molto importante l'accordo che abbiamo fatto con la provincia perché poi spiegherò un po' il monte di risorse che arriveranno, molto probabilmente ci sarà un bando per fare una nuova scuola in ogni provincia, completamente nuova e la provincia ha deciso che se questa sarà l'indirizzo del ministero dell'istruzione sulle nuove scuole, la nuova scuola verrà realizzata all'ex carcere Miralfiore in collaborazione con il comune. L'architetto Bartoli sta lavorando sul progetto di fattibilità ed è molto bella l'idea che laddove c'erano ragazzi reclusi in una carcere minorile oggi si possa pensare che lì torneranno dei ragazzi a formarsi, a svilupparsi attraverso appunto la creatività e quello ci consentirà poi di sistemare Piazzale Primo Maggio, quindi non l'abbiamo dimenticata quella zona però prima dovevamo finire il vecchio palazzetto e poi andremo sull'ex carcere minorile e su Piazzale Primo Maggio che forse in questo momento è la zona del centro storico che ha maggior bisogno di intervento. Nuova stazione più interramento della statale, ci crediamo? È possibile veramente al di là degli annunci l'interramento della statale? Sì siccome no, ma allora la premessa è questa così poi anche la Massi può intervenire perché poi la vicenda è anche nazionale non è solo locale. Perché abbiamo detto Pesaro è pronta a rinascere. Noi come città abbiamo fatto negli ultimi anni tantissimi investimenti, se io sono stato rieletto al primo turno con un largo vantaggio nonostante il voto negativo dell'europea è perché i pesaresi ci hanno riconosciuto di aver cambiato la città, resa più vivace e ci hanno riconosciuto di aver fatto tantissime opere pubbliche. Nei cinque anni precedenti come siamo riusciti a fare le opere pubbliche? Grazie allo sblocco del patto di stabilità. Pesaro aveva un avanzo di amministrazione molto grande col quale però non potevamo fare nulla e quindi ogni anno andavamo col freno a mano tirato. Antonello Delle Noci se lo ricorda bene, noi sollecitamo all'epoca il Presidente del Consiglio che era Renzi in un'iniziativa qua a Pesaro e ci siamo messi a lavorare noi con Palazzo Chigi e il Comune di Mantova, sono stati questi due comuni che hanno aiutato Palazzo Chigi a definire la norma che poi ha superato il patto di stabilità e questo ci ha consentito nel 2016 di mettere in campo 40 milioni di investimenti. Alcuni sono stati realizzati, altri sono in corso, lo stesso Palazzo dello Sport, le risorse che abbiamo preso, presumibilmente una parte sono lì e abbiamo aggiunto allo sblocco del patto di stabilità risorse nazionali. Vi ricordate uno dei miei slogan era quando sono stato candidato nel 2014 Pesaro nazionale no? E i pesaresi, i diffidenti di loro dicevano e dolvragi no? Pesaro nazionale. Chi pega? Chi pega? No, quelli pega dopo, dolvragi no? E invece è stata quella la scelta, la scelta di far pesare la città, di far cogliere alla città tutte le opportunità possibili immaginare, addirittura fino a convincere il Presidente del Consiglio a cambiare le norme sul patto di stabilità, ovviamente non solo noi, ma sicuramente protagonisti insieme ad altri sindaci. Abbiamo portato a casa tante risorse, una di queste riguarda la scuola di Via La Marmora, abbiamo vinto qualche giorno fa l'Oscar della sostenibilità e una delle scuole più sostenibili d'Europa. Come l'abbiamo realizzata? L'abbiamo realizzata in parte con soldi nostri, in parte con soldi del GSE. Il GSE è un organismo nazionale che fino a quel momento aveva dato contributi per l'installazione di pannelli fotovoltaici, di eolico e da quell'anno noi siamo stati credo la seconda città italiana a fare un accordo con il GSE, ha cominciato a dare contributi agli amministrazioni pubbliche che efficientavano demolendo, ricostruendo, riducendo la volumetria di beni decrepiti che avevano in città. Quell'area lì c'erano dei capannoni che venivano alimentati con il riscaldamento elettrico, immaginatevi che efficientamento energetico che avevano, e il GSE ci ha dato una parte importante di quelle risorse. Venne all'epoca il presidente Gentiloni a mettere la prima pietra, anche qui l'ironia alla prima pietra di una cosa che non si farà, andatevela a vedere, è davvero spettacolare, e grazie a questa impostazione ne faremo un'altra nuova già finanziata a Soria perché faremo una nuova scuola Dante Alighieri esattamente con il criterio adottato con questa scuola. Molti progetti che fino a ieri pensavamo per questa città impossibile da finanziare, oggi sono alla nostra portata e ci stiamo attrestando per questo. Abbiamo presentato tre progetti da 15 milioni di euro l'uno, un bando del Ministero delle Infrastrutture si chiama Pinqua, uno riguarda San Benedetto. Chi mai avrebbe pensato che potevamo ottenere un finanziamento di 15 milioni per mettere a posto almeno la parte che la regione ha dato a noi di competenza, che è la parte sul corso del San Benedetto. È un'opportunità unica che oggi è la nostra portata se vinceremo quel bando, questa è la parte di nostra competenza, la parte con il quale partecipiamo al bando insieme alla regione. Abbiamo messo un progetto di 15 milioni che riguarda i borghi della città, da Novilara, Candelara, Ginestretto, Fiorenzola, noi all'interno di quei borghi abbiamo molto patrimonio pubblico e quindi abbiamo pensato un progetto, anche questi tre progetti li ha seguiti Vimini, che possano andare a riqualificare quei borghi e è un progetto da 15 milioni. Il terzo progetto già presentato da 15 milioni riguarda un asse di contenitori culturali partendo da via Passeri fino a via Castelfidaro, dove dentro c'è anche la parte degli Ortigiuli, mentre invece il palazzo degli Ortigiuli, grazie a un lavoro che ha fatto Biancani negli anni scorsi, ha già ottenuto un finanziamento della regione. Solo per citare progetti già presentati, abbiamo presentato progetti per due asili nuovi, uno a Villa San Martino e uno a Suria, stiamo presentando un nuovo progetto di rigenerazione urbana per il San Domenico, per Palazzo Mazzolari, per il Palazzo Olivieri. Non è che sono sogni, sono bandi già fuori. Mi scusi Sindaco, il progetto della rigenerazione urbana avevano una scadenza adesso i primi di giugno? Giugno, giugno. Si sa qualcosa? Ha stato presentato, adesso dobbiamo solo aspettare, però le risorse, quello che voglio dire, io questi giorni sto facendo il giro dei ministeri per capire bene anche il monte di risorse che ci sono. Ieri ero... Ma col cappello in mano va? Anzi stamattina, no no, cerco di capire meglio, stamattina ad esempio, ecco vi do una notizia, qualche giorno fa ci siamo incontrati con la procuratrice Tedeschini, i prossimi giorni vedrò il presidente del tribunale, perché vorremmo capire se c'è lo spazio per allargare e ampliare il tribunale, quindi oggi ero al ministero della giustizia per capire le opportunità che eventualmente ci possono essere del ministero della giustizia. Cioè siamo davvero in una fase straordinaria, stiamo parlando di miliardi di euro che vanno presi e qui c'è un problema che riguarda Pesaro e riguarda l'Italia, che è la velocità, perché noi con le norme attuali, noi tutti questi soldi non riusciremo a spenderli, questo è il punto. Abbiamo problemi sulla progettazione, Brunetta sta sbloccando le assunzioni, anche assunzioni a tempo determinato per progettisti, ma io me lo rendo qui, io mi arrabbio tutti i giorni perché i tempi sono lunghissimi, oggi in Italia per fare un'opera da un milione di euro occorrono in media cinque anni, per fare un'opera da cento milioni di euro occorrono in media quindici anni, voi mi spiegate con queste regole come facciamo a spendere le risorse del recovery plan? E guardate qui io lo scontro che ho avuto, lo scontro, il dibattito che ho avuto, in particolar modo nel mio partito in questi giorni, è sul fatto che noi abbiamo un rettaggio culturale sbagliato, cioè c'è l'idea che ogni volta che tu provi a semplificare, a velocizzare, favorisci la criminalità. È una stupidaggine colossale, perché la criminalità, l'illegalità, nelle cose complicate, sguazza. È la gente per bene, onesta, i professionisti, gli imprenditori, i sindaci che vogliono fare le cose, che ci sbattono la testa e non riescono a fare progetti che sono fondamentali per la rinascita del Paese. Qualche cosa è stata fatta nel DL Semplificazioni, ma non è sufficiente. E io temo, lo sto dicendo anche pubblicamente in TV, io temo che se non ci saranno ulteriori semplificazioni e ulteriore velocizzazione, Draghi a un certo punto sarà costretto a commissariare tutto. E questo sarebbe un fallimento per chi come noi crede nelle regole. C'è il rischio che passi l'idea che per fare le opere in Italia bisogna fare come si è fatto col ponte di Genova. Un commissario che decide, che supera tutte le regole, perché è l'unico modo per fare le cose. Questa sarebbe una sconfitta per il Paese. Sull'interramento della statale siamo in trattativa con il fondo che ha comprato, la trovate sta foto? Eccola. Il fondo che ha trovato, che ha comprato l'ex Bramante. Quello del complesso immobiliare. Esatto. Abbiamo fatto fare un progetto preliminare a degli ingegneri, mi pare di Rimini se non sbaglio. Il progetto preliminare è compatibile, nel senso che ha un costo all'incirca di 4 milioni, 3 milioni e 8, 4 milioni. Soltanto sommando gli oneri di urbanizzazione che chi ristruttura l'ex Bramante ci deve dare, una parte di nostra proprietà all'interno del Bramante che aspetta il comune, che metteremo a reddito, noi sostanzialmente abbiamo la cifra. Speriamo, è una questione che sta seguendo Antonello, speriamo, essendo anche coinvolto come Pesaro Parcheggi, perché lì verranno anche dei parcheggi, se riusciamo a fare l'accordo con i privati il sottopasso lo paga il privato, altrimenti ci mettiamo soldi pubblici e recuperiamo i soldi dei privati quando pagheranno l'onero di urbanizzazione. La cosa è bellissima perché voi immaginatevi una passeggiata dal Teatro Rossini alla Palla di Pomodoro senza avere più le macchine in mezzo, diventa uno spettacolo unico, Viale della Repubblica diventerebbe la nostra Ramblas presumibilmente, a quel punto secondo me va fatta ciclo pedonale, cambierebbe la viabilità e la nazionale che è stata in qualche modo un intralcio tra il centro e il mare diventerebbe un elemento invisibile restituendo a Piazzale Aldo Moro il prestigio di una piazza, oggi è un piazzale ma il prestigio di una piazza, ci crediamo e quindi siamo determinati a portarla avanti, la cosa che mi preoccupava di più era la fattibilità tecnica, ma la fattibilità tecnica c'è, non passano tantissime cose lì sotto, io pensavo molto di più in termini di linee, cavi eccetera eccetera, quindi è una cosa praticabile e siamo determinati a portarla avanti, anche questo sembrava un sogno, invece c'è un sogno che può diventare realtà nei prossimi anni. Quindi neanche a livello di spropri, vedo qui dalla pranimetria, niente? No, 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 non ci sono disagi per le abitazioni, vengono garantiti tutti gli accessi, ovviamente cambierà un po' la viabilità e quindi ripeto, se riusciremo a fare l'accordo con i privati lo realizzeranno loro e non pagheranno a quel punto gli oneri che devono pagare, altrimenti lo realizzeremo noi e verremo poi rimborsati quando il privato trasformerà la struttura dell'ex Pramante che avrà una bella opera, fra l'altro anche con dei parcheggi, quindi una ristrutturazione molto importante per la zona centromare di Pesaro. Eventualmente sui tempi quando azzardiamo? È difficile dire, se lo fa il privato fa prima, quindi se riusciamo a farlo con il privato, all'accordo col privato lo realizzano loro fa prima, se lo dobbiamo realizzare noi ci vogliono più anni, ecco spero che non ci vogliono gli anni che dicevo prima, dipende molto dalla velocità, dalla velocità sulla quale ci consentono di muoverci, anche qui però ripeto, non ho un timore di risorse, ho un timore di procedure. Sulle opere, per tante che ne sta progettando, ha ridisegnato un po', sta ridisegnando il volto della nostra pesa. Ti vorrebbero sei mandati per fare tutto. Ecco, allora visto che, no, sindaco visto me la offre su un piatto d'argento, allora facciamo un balzo in avanti, siamo al settimo anno, il settimo anno di solito evoca la crisi, la fine di qualche cosa, e quindi mancano pochi anni alla fine del suo secondo e ultimo mandato. dici da ancora più grande cosa vuole fare, le voci girano da un po', faccia finire, vuole andare in Parlamento, correrà per il Parlamento? Se vuole andare in Parlamento ci andavo nel 2013, quando ho rinunciato ad andarci sono rimasto a gestire la provincia che era in via di chiusura, per me il Parlamento non è mai stato un obiettivo, a me piace fare politica nazionale, la sto facendo da sindaco, sono presidente di un'associazione nazionale dei comuni, do una mano dei cari in Anci, sono coordinatore dei sindaci del PD a livello nazionale, quindi la politica nazionale la sto facendo già da sindaco. La cosa che vorrei fare è fare più cose possibili, mi ha preso una smania, nel senso che qualcuno dice ma in genere questa smania c'è al primo mandato, perché al primo mandato tu vuoi essere rieletto e quindi cerchi di fare più cose possibili perché devi convincere gli elettori a ridarti la fiducia. Invece io adesso ho una smania maggiore del primo mandato perché so bene che molte delle cose delle quali discutiamo anche stasera purtroppo non le vedrò da sindaco, ma io voglio fare il massimo, voglio lasciare un'eredità importante a questa città, poi magari le inaugureranno altri, non fa niente, ma voglio interpretare al massimo questo momento, questo momento nel quale noi possiamo creare una rinascita, ormai la parola rinascimento è un po' stata un po' sputtanata, perché un po' Renzi in Arabia, un po' Salvini eccetera, però diciamo un nuovo rinascimento. La rinascente al limite. Il nuovo rinascimento, perché è il momento storico e quindi se riusciamo a portare avanti più progetti, a portare a Pesaro più risorse possibili, noi avremo un cambiamento di sviluppo, di modernità per la nostra città per qualche decennio a venire, quindi quello che io voglio fare è non perdere un minuto per fare più cose possibili. Mi piacerebbe fare politica nazionale, sì la sto facendo, vorrei essere utile al mio paese, ecco, vorrei che però la interpretasse così a me di fare il parlamentare, non me ne frega niente. Lo sta dicendo adesso? Sì sì, ma i miei amici lo sanno tutti, solo magari chi non mi conosce. Potrebbe rifare il sindaco. Chi non mi conosce lo sa. Se creiamo il maxi comune con Vallefoglia. Se creiamo il maxi comune con Vallefoglia. Io sto pensando questo, in questi giorni sto pensando, non per me in generale, sto pensando che forse per realizzare i progetti che uno ha in mente servirebbero 15 anni, non 10. Sì, però è anche vero. Quindi un terzo mandato, attenzione. Sì, sì, ma non si può per legge, quindi non esiste. Però a noi abbiamo le scamottage. No, 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 non ci sono le scamottage, io finisco il secondo mandato e finisce qui. Si ricorda cosa? Poi vedremo, poi vedremo, vedremo come va, vedremo come è governato, perché non è che qui tu dici, ah ma tu vuoi fare l'erba voglio, io faccio quello che sarà possibile fare, così come compreso andare a casa, perché se poi governi male e fai male, non è che tu puoi governare male la tua città e pensare di fare la politica nazionale, perché a me mi hanno insegnato che prima di essere un buon ministro degli esteri, bisogna essere un buon ministro degli interni, questa è una delle grandi lezioni che mi hanno dato i vecchi del partito che ho conosciuto per mia fortuna. Quindi prima bisogna essere forti a casa propria, fare il proprio mestiere, fare le cose per bene e avere un buon giudizio della gente per quello che fai. Poi se qualcuno pensa che l'esperienza locale può essere utile anche su livello nazionale, io sono a disposizione, altrimenti faremo altro, non è quello il punto. Però ripeto, 15 anni forse servirebbero, però è anche vero ragazzi che io ho fatto 5 anni il presidente della provincia, quindi ho già 12 anni che faccio l'amministratore locale. Da bambino praticamente. Ho iniziato presto, avevi i capelli, adesso non ce li ho più, però penso che 15 anni d'amministrazione locale siano più che sufficienti, anche perché poi non è solo una questione di stanchezza, ma si creano dei meccanismi che rischiano di incancrenirsi, quando tu stai troppo in un posto, per quanto sei bravo, lungimirante, se pensi di essere bravo, lungimirante, poi alla fine si creano dei meccanismi che si incancreniscono, rischi di sentirti in qualche modo il padrone di quell'ente, invece tu sei semplicemente di passaggio, perché ognuno di noi è di passaggio. però, sindaco, lei nel 2019, subito dopo la seconda elezione, aveva gettato lì una proposta, una bella fusione fra Pesaro e Vallefoglia per creare una sorta di super comune che sarebbe anche diventato il comune più grande di tutte le marche, anche con i benefit che credo abbiano anche i comuni superiori ai 100.000 abitanti e quant'altro. Era stata una sparata? oppure c'è qualcosa su cui si può lavorare? Sparata. Abbiamo fatto, anche qui, quando sono candidato ho detto facciamo la prima realtà delle marche, abbiamo fatto l'unione dei comuni con Vallefoglia, Gabice, Gradara, Tavuglia, Montbaroccio e Montecicardo. Poi abbiamo detto proviamo alla strada della fusione, la prima è andata male con Montbaroccio, a Pesaro ha vinto il sì, a Montbaroccio ha vinto il no, ci siamo fermati. Poi abbiamo fatto l'anno scorso la fusione per incorporazione con Montecicardo, Pesaro è diventata 97.000 abitanti, siamo lì con Ancona e quindi comunque noi siamo cresciuti e al tempo stesso abbiamo l'unione dei comuni. Fatemi dire che il fatto che comincio a vedere i primi asfalti a Montecicardo è la dimostrazione che non scherzavamo, quando abbiamo detto a quel comune che era in grandi difficoltà che avremmo fatto un piano di opere straordinario abbiamo iniziato da lì, stiamo asfaltando tutte le strade possibili immaginare a Montecicardo e continueremo con i lavori. Adesso si riesce a fare un salto in più, io credo che Vallefoglia e Montelabate stiano facendo un ragionamento fra di loro in questo momento, non so se riusciranno a partorire qualche cosa oppure no. Noi siamo sempre disponibili però è evidente che non può essere una proposta del comune più grande perché altrimenti rischia di creare una contrapposizione del comune grande che mangia il comune piccolo. Nel caso di Monbaroccio e di Montecicardo in entrambi i casi l'istanza è arrivata da loro, Vallefoglia è un bel comune, ha 15.000 abitanti, Vallefoglia è superato Urbino, quindi Vallefoglia in verità è il terzo comune della provincia, con Ucchielli c'è un rapporto anche affettivo straordinario, stiamo lavorando molto bene, si tratta di capire Vallefoglia che cosa vuol fare perché se vuol mantenere l'unione dei comuni rimaniamo in l'unione dei comuni, se vuol provare a fare un passo in più noi siamo disponibili però non è un'iniziativa che possiamo prendere noi, quindi lo vedremo nei prossimi mesi però noi aspettiamo eventuali valutazioni di altri. Un'altra domanda adesso, però mi devi rispondere senza pensare più di tanto, se mi risponde dopo due secondi non vale la risposta. Non devi pensare fino a sette. E' pronto, quindi dice basta sindaco, finiti i due mandati, niente. Chi vede come il suo successore? Abbiamo una bella squadra, lo vedremo quando è ora. La risposta è, ho detto devi rispondere di getto, si sta pensando troppo. No, no, io faccio il dirigente politico e ho una grande responsabilità, aprire adesso una discussione di questo tipo significa porre i presupposti per perdere, secondo me non piace perdere, a me piace vincere, questa discussione si dovrà aprire l'anno delle elezioni, non prima dell'anno delle elezioni, prima dell'estate del 2023 non ne voglio sentirne anche parlare, probabilmente anche fino a capodanno del 2024. Poi discuteremo su chi deve essere, abbiamo per fortuna una bella squadra e io sono convinto che in una città come questa, se terremo unita la squadra, terremo unita la maggioranza, abbiamo costruito anche questo rapporto molto positivo con il Movimento 5 Stelle, io penso che a Pesaro non ce n'è per nessuno. Ho alcune segnalazioni, la mentele, capito, da fare, capito, allora, gli faccio un brevissimo elenco. Zona mare, zona mare pedonale, perché è stata riprodotta la stessa isola pedonale dell'anno scorso? Forse la zona mare non meriterebbe una riorganizzazione, visto anche il bel progetto d'interamento della statale, la bella opera, capito, di Ramblas, da Via Rossini fino alla Palla. Non meriterebbe la zona mare praticamente una riorganizzazione urbana di aree, di isole, più completa, meno posticcia tra Levante e Ponente, ci sono appunto delle differenziazioni. A Levante non c'è quasi isola pedonale, adesso è stato fatto qualcosa su piazzale d'annunzio. A Ponente invece abbiamo due aree pedonale, più la ZTL, quindi diventa anche molto complicato muoversi o raggiungerla. in più ci sono, sabato partiranno i parcheggi a pagamento al campo di Marte di Baia Flaminia e anche lì ci sono state un po' di proteste perché ci sono troppi parcheggi a pagamento e pochi parcheggi a disposizione. Diciamo che è stata fatta parecchia confusione nelle polemiche, proviamo a mettere ordine. Allora, intanto sulla zona mare vorrei ricordare che abbiamo negli ultimi anni finito Viale della Repubblica, Viale della Repubblica l'ha realizzata a Seriscioli e io l'ho finita con il collegamento con piazzale Aldomoro. Abbiamo rifatto la piazza del mare, vorrei che qualcuno se lo ricordasse, quando sono arrivato c'era l'asfalto e oggi è una piazza. Abbiamo sistemato tutta l'area della palla di pomodoro, compresi i giardini che abbiamo inaugurato l'anno scorso e abbiamo intitolato Nilde Jotti. Penso che siano ancora da riqualificare, ci sono altri step aggiuntivi in Italia. Sì, con le piante sicuramente più passa il tempo più il giardino diventa bello, ma per dare solo alcune idee. Abbiamo sistemato il Viale Marconi che faceva schifo e non voglio farvi tutto l'elenco. Sicuramente metteremo mano anche a Viale Trieste, però tra le cose che dovevamo affrontare non era in quel momento quella messa peggio, la priorità. Dopodiché però cosa abbiamo fatto in Viale Trieste? Abbiamo recuperato spazio, questo è il punto. Dobbiamo cambiare mentalità, abbiamo recuperato spazio, intanto perché con il Covid lo spazio conta di più. Cioè il Covid, torneremo a prima o poi ad abbracciarci, ma alcune cose rimangono, alcune cose rimangono. Rimarrà sicuramente l'uso della tecnologia per evitare spostamenti, riunioni, lezioni piuttosto che altro. E lo spazio oggi è un valore nuovo, quindi noi abbiamo cercato di dare spazio. Innanzitutto con le isole pedonali, perché ogni metro che noi togliamo al traffico e alle macchine e restituiamo alle persone è uno spazio di libertà e di civiltà. O vogliamo ancora le macchine in piazza? Quando sono arrivato io metà piazza era piena di macchine. Vogliamo rimettere le macchine in piazza? Vogliamo rimettere le macchine a Piazza Mosca? Avete visto Piazza Mosca con me? Era un parcheggio quando sono diventato sindaco. Torniamo indietro e andiamo avanti? Vogliamo rimettere le macchine davanti al conservatorio? In via San Francesco? Lungo il corso? Davanti alla pescheria? O quelli sono stati spazi restituiti alla città? Questo è il futuro, è la sostenibilità, è lo spazio, è l'andare a piedi, l'andare in bicicletta. Questo è il futuro. Chi ancora pensa che per lavorare ti devono passare le macchine davanti ha una visione degli anni 80, che non è la nostra visione. L'anno scorso abbiamo sperimentato la pedonalizzazione di Viale Trieste, cosa che si diceva da anni e non si faceva mai, è stato un esperimento. L'esperimento nonostante alcune polemiche è andato abbastanza bene, quest'anno l'abbiamo migliorato e l'abbiamo rafforzato. E non è che non ci siamo posti il problema delle macchine, perché abbiamo comprato il parcheggio a Villa Marina gratuito e quindi le auto che abbiamo tolto da Viale Trieste oggi possono parcheggiare gratuitamente a Villa Marina, sono circa 200 posti se non sbaglio. Quest'anno ancora è temporaneo, il prossimo anno diventerà un parcheggio strutturato con le colonnine, con lo spazio anche per i camper, con un altro bagno, quindi come dire diventerà un'area più appropriata. E quindi noi continueremo così. E qual è la strategia dei parcheggi che abbiamo? Vorrei chiarirlo ulteriormente, approfittare di questa sera. In tutte le città europee i parcheggi gratuiti non sono attaccati al luogo dove le persone vanno, nel nostro caso il centro storico o l'isola pedonale di Viale Trieste. I parcheggi gratuiti sono leggermente fuori ad una distanza tale da poter in 10 minuti arrivare nei luoghi centrali. E quali sono i nostri parcheggi gratuiti? San Decenzio, è uno parcheggio a San Decenzio in 10 minuti a piedi e in centro, addirittura in alcuni casi c'è anche la navetta, è il parcheggio prima del sottopasso su quale stiamo facendo i lavori dietro la stazione. Lì abbiamo acquistato un parcheggio dalle ferrovie e quel parcheggio diventerà oggi temporaneo, diventerà stabile dentro il bando delle periferie. Quindi uno arriva dalla Monte Labattese, scende su via Solferino, parcheggia lì e viene in centro. Il terzo parcheggio scambiatore sarà quello di via dell'Aquedotto che verrà completamente riqualificato come dicevo prima e questi sono i tre grandi parcheggi della zona centro. Quel parcheggio è il parcheggio gratuito della zona mare e abbiamo fatto un parcheggio gratuito a Baia Flaminia, vi ricordate le polemiche, prima di entrare a Baia Flaminia nel Lungofoglia, ci sono circa 90-100 posti, perché tu non devi fare più il giro dell'Oca per trovare il parcheggio a Baia Flaminia andando fino a sotto la villa di Pavarotti e quindi creando anche un problema ambientale alla Falesia, ma poi parcheggiare prima ed andare a Baia Flaminia. La nostra politica sui parcheggi è chiarissima, tutti i parcheggi invece che stanno a ridosso del luogo d'aggregazione devono essere a pagamento, ma non perché il comune ci incassa, ma perché uno che ci va un'ora deve trovare il posto. Chi sta mezza giornata, una giornata e va al mare, parcheggia in fondo Viale Trieste, lascia la macchina lì e non paga nulla. Chi invece deve andare un'ora a prendere una cosa, piuttosto che a bere, piuttosto che a mangiare, deve poter trovare il posto più vicino, questo vale per il centro piuttosto che altrove. A Baia Flaminia abbiamo aggiunto una cosa in più, perché noi abbiamo un parcheggio tra i due porti, un parcheggio che la Capitaneria ci concede e l'anno scorso abbiamo detto facciamo la navetta per cui chi va al mare a Baia Flaminia il sabato e la domenica, per fortuna Baia Flaminia è sempre più bella e sempre più frequentata, va a parcheggiare tra i due porti e con la navetta lo portiamo a Baia Flaminia. L'anno scorso e due anni fa le navette hanno girato sempre vuote. E quindi che cosa abbiamo detto quest'anno? Intanto abbiamo fatto il parcheggio gratuito, ma il sabato e la domenica io non voglio il parcheggio selvaggio sulla spiaggia a campo di Marte con le macchine che si infilano dappertutto. Ti diamo la navetta gratis il sabato e la domenica per andare al mare, se non vuoi prendere la navetta e vieni a parcheggiare lì paghi, perché se vuoi parcheggiare gratuitamente non lasci la macchina lì impegnando il parcheggio tutto il giorno, ma la vai a mettere nella navetta e in cinque minuti c'è Baia Flaminia. È mobilità sostenibile di una città europea. Questa è la politica che stiamo portando avanti. È evidente che qualcuno scontenti, ma è governare questo. Il governare non è assecondare, sono buoni tutti assecondare. Governare non è assecondare, governare è ascoltare, fare la tara e poi se si è convinti della propria scelta decidere e prendersi le responsabilità della decisione. Se poi quella decisione nella realtà diventa sbagliata, si torna indietro. Ma quando io ho chiuso, ho tolto le macchine della piazzale Mosca, ho dovuto girare alla larga tre mesi che mi seguivano. Pensate che sia stato semplice? Quando abbiamo detto ai poliziotti che ringrazio per il grande lavoro che fanno o ai dipendenti della questura non parcheggiate più in piazza, pensate che erano contenti? Questore prefetto? Ma se noi potevamo spingere sulla bellezza, spingere sulla cultura, città della musica UNESCO, ci candidiamo a città della cultura italiana del 24, capitale europea con urbino del 33 e hai le macchine davanti ai luoghi culturali della città, ma chi ci avrebbe creduto? Sindaco, in merito però a questo di Baia Flaminia, che poi lei ha messo un post anche su Instagram, dove appunto diceva a pagamento perché per incentivare la mobilità sostenibile e anche basta con la sosta selvaggia. Se lì è sosta selvaggia, Sottomonte che cos'è? Sottomonte è un bel problema, abbiamo ottenuto, grazie alla scuola, l'utilizzo anche qui del parcheggio dell'alberghiero, ma Sottomonte fino ad oggi, nonostante che le navette funzionino bene, all'epoca c'era Andrea Biancani che ha avviato questo lavoro, non è sufficiente. La gente è talmente tanta che va al mare Sottomonte che se non si parcheggia anche nei lati della strada non si riesce a soddisfare la domanda. La cosa che a mio parere andrebbe fatto è un altro parcheggio con una navetta nella zona di Fosso Signore, questa è la mia idea, in modo tale da favorire ulteriormente lo smistamento. Però quello della statale, hai ragione, è un problema difficilmente risolto. E' anche vero che quando ci sono le macchine le persone vanno molto più piano, quindi per fortuna non ci sono stati incidenti particolarmente gravi, è stato fatto un lavoro sull'illuminazione, però effettivamente è un problema non risolto, non risolto se non parzialmente. Molti vanno con la navetta, molti vanno in bicicletta, però è talmente tanta la gente che va al mare Sottomonte che non c'è ancora una soluzione alternativa a quella di far parcheggiare. Però capito, qualcuno potrebbe dire discrimini, Baia Flaminia a pagamento, qua invece si lascia a zona franca e via. No, non è che discrimino, non è che discrimino, do un'alternativa in più. A Baia Flaminia sono riuscito a fare un parcheggio, nella statale dove lo faccio il parcheggio? Oltre al parcheggio dell'alberghiero, sotto il monte. A Baia Flaminia mi sono inventato il parcheggio scambiatore tra i due porti, lì dovrei inventarmi un altro parcheggio scambiatore come ti dicevo fosse signore, però non è un discrimine, è realismo, ripeto, un sindaco deve essere anche molto pragmatico e provare a fare le cose con coraggio che si riescono a fare. Quindi lì sulla statale hai ragione, è un problema parzialmente ancora risolto. Sull'ospedale è passato un anno imbarazzante, lasciatemi dire questo, un anno imbarazzante. Lo dico a la regione, è vero che hanno dovuto gestire l'emergenza Covid come tutti noi, ma abbiamo perso un anno, è imbarazzante aver perso un anno. Mi eravamo arrivati pronti con il progetto e il progetto da fare. Hanno detto che il progetto è lo strumento che non vogliono, io ho reagito dicendo bene, volete mettere soldi nella regione, mettete soldi nella regione, è passato un anno, un anno. No. L'ipotesi di case bruciate? Ma è una pazzia, l'ho spiegata ad Acquaroli, è venuta a fare un sopralluogo, insomma un po' di lugubrazione che gli fanno all'interno della propria giunta. L'unico modo per fare l'ospedale nuovo è farlo lì a Muraglia, c'è già il progetto, è una zona pubblica, non dobbiamo fare varianti. Io credo che devono dire, capisco che hanno vinto le elezioni loro, ma non è che possono tenere in ostaggio la sanità del nord delle Marche. Che cosa vogliono fare? Vogliono fare il nuovo ospedale a Pesaro e tenere il Santa Croce a Fano? Questa è la loro proposta? La dicono. Non si azzardino a mettere in discussione l'azienda Marche Nord, perché noi facciamo le barricate. Non si azzardino a provare a ridimensionare la sanità pesarese, che ha già tanti problemi, è già un grande problema di mobilità passiva. Quindi io in maniera rispettosa anche per il rapporto istituzionalmente corretto che ho con Acquaroli sto aspettando una proposta, ma è passato un anno, quasi un anno è passato. Quindi profittiamo anche questa sera per dire alla Regione, batti un colpo, fai una proposta, perché in base alla proposta che la Regione farà noi ci adegueremo. Se sarà una proposta nell'interesse dei pesaresi è accettabile, noi non abbiamo problemi a collaborare dal punto di vista istituzionale. Se sarà una proposta inaccettabile faremo le barricate, se continueranno a perdere tempo cominceremo a mobilitare i pesaresi, perché adesso passata l'emergenza Covid abbiamo bisogno di ritornare ad occuparci dei malati oncologi, dei malati cardiopatici, delle tante malattie che continuano ad esserci, per le quali purtroppo le persone continuano a morire e che hanno bisogno di un ospedale più moderno rispetto a quello che abbiamo oggi. E' un ritorno a Pesaro del reparto di ginecologia e del pronto soccorso pediatrico? Sono battuti i consiglieri, hanno fatto un'iniziativa, l'azienda ospedaliera ha garantito che tornerà, io ci voglio credere, però ripeto non voglio fare quello che siccome adesso è cambiato il colore politico dalla regione meno anticipatamente, aspetto proposte, se sono proposte accettabili collaboriamo, se sono proposte inaccettabili ci mobilitiamo, però è chiaro che passato il tempo avevo chiesto una proposta prima di Natale, poi siamo arrivati a Pasqua e poi adesso siamo dentro l'estate, quindi spero che il Presidente Acquaroli mi incontri di nuovo, mi faccia una proposta che possa essere una proposta nell'interesse della provincia di Pesaro Urbino, perché non è un problema di peso, è un problema del nord delle Marche. L'ultimissima proprio, mi sto per rimanere su quelle ancora ferme, la questura. La questura... E la proposta anche di Villa Marina. Io ragazzi, allora, abbiamo trovato 6 milioni per la questura, c'è il demagno, si muove, ho parlato stamattina anche col Prefetto, e lì basta fare i lavori, stanno facendo, hanno fatto le indagini sismiche, poi la sovrintendenza, e poi di là, tutti i giorni sollecitiamo, ho parlato ieri con la nuova responsabile del demagno nazionale, e quindi anche lei sta seguendo la questione, speriamo che si possa partire, lo stesso Prefetto... Quindi per lei lì il posto in cui fare la nuova questura è questa, l'ex Intendenza di Finanza? La vogliamo rimettere in discussione, riprendiamo altri 30 anni a discutere del nulla, e lì ci sono 6 milioni e 2, abbiamo lottato con i denti per ottenere quelle risorse, risorse dello Stato, c'è un bene che casca a pezzi, la questura è lì, e abbiamo ottenuto 8 milioni per il rifacimento della stazione di Pesaro, non so se c'è un'immagine, l'abbiamo presentata l'altro giorno, un'altra bella opera, altri soldi statali che arrivano a Pesaro, di RFI, perché abbiamo una stazione che non è degna per una città come la nostra che vuol crescere, questa è l'attuale stazione, hanno fatto un rendering molto carino, è il rendering vero? Questo mi sa il video che hanno fatto loro, fa vedere come viene trasformata, poi diventerà così, sarà un completo ristrutturazione dell'opera, intervento su tutto il piazzale, sui binari, pensiline, edifici che mancano, quindi verrà completamente modernizzata, ci sarà un ingresso anche da dietro dalla zona del cavalcaferrovia, quindi si rivisiterà anche il piazzale dei Pullman, sono molto contento perché abbiamo incalzato molto, di stazioni in Italia da mettere a posto ce ne sono tante, siamo riusciti a inserire Pesaro nei lavori da fare il prossimo anno, quindi siamo molto soddisfatti, anche qui ci vorrà un po' di tempo, però è un'altra di quelle cose che spero di vedere, che nella peggiore delle cose andrà in eredità, però ecco è tutto il frutto della smagna che vi dicevo prima, io sono, in genere sto un giorno, adesso non tutte le settimane, però quando vado a Roma sto un giorno e mezzo e ogni volta che torno da Roma rifaccio il punto con Arceci sulle grandi opere, abbiamo ottenuto il finanziamento per il conservatorio grazie all'impegno congiunto dell'avvocato Giordano, del prefetto ed altri e siamo in attesa del riparto di queste risorse, abbiamo ottenuto i soldi per Palazzo Ricci, ripeto, io ogni volta che vado cerco di portare a casa un risultato, ieri sono andato per il tribunale, chissà mai che nei prossimi mesi si riesca a trovare una soluzione anche per quella, perché ho la smagna di fare e lasciare più cose possibili, perché ripeto, quando ho fatto il presente della provincia per 5 anni ho solo tagliato, sono arrivato lì, ho cominciato a tagliare, 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 per 5 anni ho solo tagliato, sono arrivato a Pesaro, avevo un bilancio virtuoso che mi ha lasciato Luca prima di me, bilancio che abbiamo mantenuto virtuoso perché continuiamo ad avere un avanzo all'amministrazione, abbiamo fatto delle operazioni molto importanti di bilancio, quindi sono molto soddisfatto, però all'inizio non potevo spendere i soldi che avevo, che siamo riusciti a sbloccare il patto di stabilità, adesso invece siamo in una fase che tra risorse portate e risorse che arriveranno, insomma c'è da divertirsi se ci fosse un meccanismo davvero che ci consente di fare, quindi lavoreremo fino alla fine in questa direzione. Ma davvero non le dispiace lasciare tutti questi fondi e risorse ad un altro dopo di lei? Ecco mi dicevo prima, ma no, non è che mi dispiace, non è che mi dispiace, mi piacerebbe, in un libro che ho fatto ho detto che quando inauguro un'opera, non vorrei essere arda, questa sera, quasi le 11 sono, ma io provo quasi un piacere fisico, non so come spiegarlo, perché ripenso a tutta la fatica fatta per idearla, per trovare i soldi, per progettarla, per portarla avanti, quando inauguri quell'opera vedi che produce un cambiamento positivo nella tua città e le persone che sono lì sono felici di quel cambiamento, ti ripaga di tutti gli sforzi, di tutta la fatica, è la cosa più bella che può avvenire, del resto per questo penso che il sindaco è la cosa più bella che uno possa fare se è innamorato della politica e innamorato della propria città, è davvero un'esperienza straordinaria, faticosissima ma straordinaria. Non so che altri temi abbiamo lasciato, le ciclabili piuttosto che, non so ragazzi cosa manca dei temi principali, abbiamo trattato più o meno tutto, sulle ciclabili andiamo avanti, siamo città della bicicletta, quest'anno abbiamo già finanziato la ciclabile che arriverà a Vismara, sono molto contento e quindi collegherà a Vismara, abbiamo finanziato la ciclabile di via Fratti che arriverà dal ponte di via Fratti fino a via Belgioiosa e poi proseguiremo nei prossimi anni su via Giolitti e via Ponchielli. Quanti chilometri è adesso la ciclabile? Quest'anno in base ai conteggi che abbiamo sforiamo i 100 chilometri, quest'anno con le opere di quest'anno. Poi la regione ha finanziato la ciclabile sul Foglia che arriverà fino a Borgo Santa Maria a Montellabate, un bel progetto che la regione ha portato avanti anche grazie all'impegno di Andrea e su tutta la vallata del Foglia. Le nuove ciclabili che stiamo progettando, questa è una novità, voglio fare la ciclabile su via Cialdini e via Gasperi perché sto cercando di intervenire nei luoghi che oggi sono interrotti, questa è l'uscita dal centro ma via Cialdini e via Gasperi non c'è la ciclabile, l'idea che abbiamo è quella di ripensare Piazzale Matteotti, lo allargheremo un po', all'interno verrà posizionata un'opera della famiglia Bucci che sta realizzando la famiglia Bucci e poi vorrei fare il viale Cialdini diventare un viale con l'illuminazione sui lati e la ciclabile nel mezzo come spartitraffico ed è un progetto che stiamo portando avanti e che vorremmo realizzare che era fuori dalla progettazione, così come stiamo progettando i tratti mancanti, ad esempio venendo da via Belgioioso abbiamo il problema dell'attraversamento del cimitero e l'idea è di passare intorno al cimitero per arrivare fino all'oretto perché quello è un tratto in bicicletta pericoloso, così come andremo avanti sugli altri pezzi, il pezzo finanziato è verso Villa Fastigi sul Foglia, all'altezza del Palasport ci sarà un ponte che va nell'altro argine, arriverà la ciclabile fino al lago Penserini e poi dovremo continuare il pezzo più costoso, abbiamo fatto un conto delle risorse che servono per completare l'idea che ho di Bicipolitana, servono 7-8 milioni, il pezzo più costoso è quello, dei soldi che dobbiamo ancora trovare, quello che deve arrivare a Villa Ceccolini, da Villa Fastigi a Villa Ceccolini quello è il pezzo più costoso perché parliamo di circa 3 milioni e mezzo, però l'obiettivo è far arrivare la Bicipolitana ovunque, migliorare quell'attuale, appena finita l'estate partirà la manutenzione sulle ciclabili, perché noi vogliamo essere sempre più città della bicicletta, l'avete visto anche con Caterpillar la settimana scorsa, oltre alla città della musica e al lavoro straordinario che Vimin ha fatto in questi anni sulla cultura, vogliamo essere anche una città fortemente legata alla sostenibilità della bicicletta, domani se non sbaglio Daniele saremo la prima città che sperimenterà anche la bicicletta sull'acqua, quindi domani alle 3 saremo la prima città che sperimenta la bicicletta in acqua, è un brevetto nuovo che chi ha l'escusia per l'Italia, Malta e Svistera ha deciso di sperimentare a Pesaro e sarà un modo per andare così, l'ha pensata, spero per lui che sia un'attività imprenditoriale che possa funzionare, sarà un modo per visitare da Baia Flaminia la falesia del San Bartolo in bicicletta elettrica, l'idea del promotore è quella di uno strumento che possa essere utilizzato per andare a visitare dall'acqua i luoghi ambientalmente sensibili. A proposito, niente ruota quest'estate? No, niente ruota, niente ruota per colpa di Arceci, dove è Arceci? Andate via. Niente ruota per colpa di Arceci perché aveva paura delle polemiche delle ruote, poi adesso vedo ieri uno, ah qua sono a Genova c'è la ruota panoramica, ecco fatemi chiudere su questo, c'è una cosa che ancora a me mi imbestialisce che è il provincialismo nel quale noi scadiamo, no? La ruota a chi dà fastidio? A chi dà fastidio la ruota? Un albergatore mi ha detto no perché è una zingarata, è una zingarata la ruota panoramica, c'è in tutte le città turistiche la ruota panoramica, un altro mi ha detto no, la ruota pesre, ma c'è da veda, c'è il frutto di una mentalità che per me è insopportabile, come l'altro giorno, prima parlavi dell'aria pedonale, potrà uno che rappresenta gli albergatori fare un'intervista e dire quante figa Riccione Rimini e quanto fa schifo Pesaro, a parte il fatto, l'ingratitudine rispetto a quello che l'amministrazione ha fatto, ma lascia stare, sono opinioni, ma che pubblicità fai la città? Ma vuoi portare la gente negli alberghi oppure no? Anzi, fatemi dire una cosa, che il problema vero che questa città oggi ha per fare il salto da punto di vista turistico sono gli alberghi, perché il resto ci sta andando le mani dappertutto e noi abbiamo bisogno di più alberghi e di migliore qualità e quindi invito tutti a investire nella propria struttura, utilizzare gli incentivi che ci sono, peccato che non sia riusciti a far passare il 110 anche per gli alberghi, è un grave errore che ha fatto il governo, capisco che costava troppo ma è un grave errore, perché se noi vogliamo decollare abbiamo bisogno di migliori strutture, adesso arriveranno a settembre i campionati europei di giornastica acrobatica e mica basta negli alberghi di Pesaro, ogni grande manifestazione che portiamo dobbiamo mettere a dormire la gente da Rimini a Senigallia. Avevate provato con delle noci a fare una sorta di... Guarda abbiamo messo gli incentivi, io capisco, allora ragazzi adesso spessiamo una lancia per gli albergatori, hanno vissuto un anno tremendo, è già molto che stanno in piedi, alcuni non sono riusciti ad aprire, quindi non voglio essere frainteso e quindi come dire onore a coloro che tengono aperti gli alberghi in questo momento, che ci riprovano, hanno avuto un anno pazzesco, ma io anche prima del Covid, sto parlando di prima del Covid, è evidente che questo è il nostro problema strutturale, abbiamo 50 alberghi e noi dobbiamo crescere, dobbiamo essere bravi ad attrarre nuovi investitori, dobbiamo sperare che qualche imprenditore ci metta la testa e ci metta soldi anche negli alberghi, è chiaro che noi abbiamo alberghi che sono frutto di una gestione familiare, quindi non è che abbiamo tanti imprenditori turistici, quindi non abbiamo albergatori con le spalle coperte, dico soltanto che comprendendo le difficoltà, comprendendo tutto, però almeno evitiamo di scadere in polemiche provinciali che fanno del male alla città, come quando parliamo male, perché poi oggi nella rete basta che uno va a cliccare Google, si legge una recensione negativa di quel tipo lì, perché dovrebbe venire nella nostra città? Noi abbiamo fatto con Vimini sabato e domenica quelli di Caterpillar, li abbiamo rimbecilliti, li abbiamo portati su San Bartolo, li abbiamo portati a vedere il tramonto a Est, tutte le pataccate che mi sono inventate in questi anni, per dimostrare che Pesaro è il posto più bello del mondo, adesso lo faremo con il nuovo festival, parliamo bene della nostra città, non è che perché fare un dispetto al sindaco si fa un dispetto alla città, ce lo dico in generale, io fra l'altro ripeto, ormai le polemiche a me mi passano sopra, non mi interessa niente, mi dispiace solo per la città, perché a volte mi rendo conto che non abbiamo tolto il freno del provincialismo, se togliamo il freno del provincialismo il nostro orgoglio di essere di provincia, abbinato a una sana ambizione nazionale e internazionale ci può far volare, questo è il momento nel quale progettare la rinascita di una città che può volare, questo è il momento, dobbiamo crederci, lasciarci alle spalle il momento doloroso che abbiamo vissuto e anche in memoria di coloro che non ci sono più, tante persone purtroppo che conoscevo anche io, dobbiamo mettercela tutta per far di Pesaro una città ancora più bella, ancora più vivibile, ancora più green, ancora più accogliente e ancora più coesa, questa è la sfida che abbiamo nei prossimi mesi. A questo punto ringraziamo il sindaco, ringraziamo le colleghe Elisabetta Rossi e Alessandra Massi, io direi che però abbiamo ancora un piccolo video da vedere e ci terrei a farlo vedere perché praticamente è un video realizzato da Alberto Giuliani, Giuliani è un fotografo, è un giornalista e lui è stato famoso nell'epoca del Covid perché le sue foto hanno girato dappertutto gli scatti che ha immortalato e so che ha realizzato un video su Pesaro, su come se l'immagina è proprio incentrato su questa nuova rigenerazione urbana di Pesaro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti per la presenza, non c'è il coprifuoco però abbiamo fatto un po' tardi quindi grazie davvero per la partecipazione.